A, E, I, O, U, passo ripasso! A, E, I, O, U, questa è la mia saliera! Siamo Della? Hai ragione! Buon anno a tutti! Buon anno a tutti! Buon anno a tutti! Ciao a tutta la regione! E te la regione! Guarda la telecamera Mario però, almeno tu! Mario Musino, presidente del Consiglio Comunale di Oristano, in rappresentanza del... Non si può così però, abbiate pazienza! Riprendiamo Mario Musino tutto eh! Mario Musino, presidente del Consiglio Comunale di Oristano, in rappresentanza del sindaco Angela Nonnis. Cosa significa la Sartiglia per questa città, presidente? Non si può... Ma è possibile! Ma dai, ma io non lo so eh! Spot! Vi è mai capitato di essere a casa con tutta la famiglia e dire quale televisione mettiamo fra i preferiti nel nostro telecomando, nel nostro digital terrestre? Bene! Ve lo dico io! La regione più antica e più bella del mondo è la Sardegna! Quindi la Sardegna offre la tele-regio, la, la region, la tele-regio! Preferiti! Andate sul telecomando! Non c'è niente! Non c'è niente che fare! Pot! Vi è mai capitato di essere a casa con tutta la famiglia e dire quale televisione mettiamo fra i preferiti nel nostro telecomando, nel nostro digital terrestre? Bene! Ve lo dico io! La regione più antica e più bella del mondo è la Sardegna! Quindi la Sardegna offre la tele-regio, la, la region, la tele-regio! Preferiti! Andate sul telecomando! Niente! Che fare! Ahahahah! Pertanto sul tapping! Mettete proprio là! Non c'è più luce! No, no! Mettete! Ma ragazzi! Mi raccomando solo per i che l'hanno meno grosso il tempo della voce perché la Udo è un suo proprio profonda! Ma non era dall'altra parte! Eh! Guardate quella parte lì! Poi ci passano a muovere per caso! Ok! Adesso è finito! Spot! La parola preferiti che significa? Prendere il telecomando! Eh! Accingerci a B2! Uuuuh! Uuuuh! Preferiti! La parola preferiti cosa vi... La televisione vi ha annoiato? I programmi televisivi non vi piacciono più? Allora prendete la televisione! Sbloccate... Bloccatemi! Bloccate la testa! Fate zapping con la televisione! Non dimenticatelo! Zapping! L'emozione è tanta! L'adrenalina qui in questo punto è veramente a mille, anzi a un milione! Presidente! 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 Non è un milione! Non è un milione! Non è un milione! Perché tutti vorrebbero avvicinarsi, vedere i cavalli più vicino possibile, ma questo non è possibile perché è estremamente pericoloso, in questo momento soprattutto! E' estremamente pericoloso! E' una festa! Ma perché la festa? Tu che fai la... Ia dai! A me me la f***o! Questo è uno spot! Uno spot che cos'è? Un qualcosa che esce in televisione e voi lo vedete! Allora la parola preferiti! La parola preferiti è una parola... Lo dice la parola stessa! Cosa preferite? Qual è la tv, per esempio, che voi state guardando in questo momento? La nostra! La nostra tv! Vite la bai dentro, le due! Quindi, la nostra tv! Tele-regione! Regione vuol dire la nostra patria! Siamo! Siamo sardi dall'inizio, dal periodo dei Ciardana e di Sandaglia! Tele-regione! Mettete fra i preferiti, ricordate questa parola, preferiti! Tele-regione! Tanto capita sul numero 3? Lassai la su 3? Entra una televisione nuova con il digitale terrestre, Babu rientrerà nella campagna? Che chiama il tecnico lì a cento euro per dire vedo cinque videolina? Non è un errore della televisione! È il digitale terrestre! Tele-regione! Preferiti! Cliccate il telecomando! Lassate, lo commentete! Basta che mettete la tele-regione! Fate una cosa! E con dire che buona! Sky! La Rai! E tutti! Voi mettete la tele-regione! Il 3 è la bai dentro e due! Tele-regione! Preferiti! Sky! A! A! E! I! O! U! Passo ripasso! A! E! A! 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 A!